Negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations. Rettore O'Brien, forse ho il quadro della situazione. È stato solo un debistaggio, orchestrato direttamente da lei. Dovremo accelerare le cose. Diavolo, è una trappola. Che intende dire? Ah, hai capito quasi tutto. Dieto di non aver sprecato i miei soldi. Cercherò di scoprire come tenerla. L'hai ceguto. Noi pensiamo al virus. Ben fatto, BSA. Le vostre attività sono state illuminanti. Morgan Lensdale. Ehi, qui! Vuoi morire con i tuoi computer, idiota! Aspetta, ci sono! Il vostro destino è nelle mie mani. Non coglie mai segnali. Che rincoglionito. Forse è già occupata, Jessica. Sì, certo. Allora possiamo cominciare? Certo! Non è la nostra prima volta all'inferno. Niente di nuovo per noi. Già, come ai vecchi tempi. La vecchia FBC. Allora, qual è il piano? Andiamo sul ponte, attiviamo le paratie. e preghiamo che la nave non affondi. Ora che è tornata la corrente, forse si può accedere al sistema di manutenzione. Ok. Meglio separarci, allora. Devo prima controllare una cosa. Ok, d'accordo. Ci vediamo sul ponte. Ok, d'accordo. Ok, d'accordo. Ancora tu? Sono davvero stufo di vedere la tua faccia. No. No. , non. It's thatilità. Oh no. No. Parker, dove sei? Sono quasi al ponte Io sono già qui, comincerò ad abbassare le paratie Hai fatto presto? Sei tu che stai lento e mi devi un'altra cena A proposito, non ti ho mai offerto il drink che ti avevo promesso un anno fa Non importa, vorrà dire che ti sdebiterai di tutto in una volta sola Ok, d'accordo, non muoverti da qui, torno subito Ferma dove sei? Parker? Una spia si è infiltrata nella BSA, una talpa di Morgan Forse sei tu È quello che mi ha detto Raymond Ma che stai dicendo? Non abbiamo tempo per... Parker, tieni a bada quella donna Raymond? Come diavolo? Ma tu... Tu eri... Cerca di attivare il programma di autodistruzione della nave Per distruggere le prove Cosa? Ragazzi, la cosa ci sta sfuggendo di mano Non è divertente Andiamo Di qualcosa Parker, sono io Non posso fidarmi del tutto Non ancora Abbassa l'arma, Raymond Sei troppo tenero Non farti fregare, Parker Parker! Che stupide Sapevo che O'Brien aveva un tirapiede Dirò a Morgan che eri il tuo Jessica! Non preoccuparti della cena Ora siamo pari Mi dispiace, Parker Valle dietro! Ma tu... Raymond, vai! Alla prossima A presto Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Vieto di non aver sprecato i miei soldi Cercherò di scoprire come tenerla Ricevuto Noi pensiamo al virus Ben fatto PSA Le vostre attività sono state illuminanti Morgan Lensday Ehi, Chris Vuoi morire con i tuoi computer, idiota? Aspetta, ci sono! Il vostro destino è nelle mie mani Grazie a tutti Bene La fiera Queen Semiramis Ha scelto la morte Piuttosto che subire un oltraggio E così sarà anche per la Queen Zenobia Sequenza di autodistruzione avviata A tutto il personale Evacuazione immediata La sequenza non può essere annullata Scarcomatto Sembra che il mio brillante giovane assistente abbia fatto l'ultima mossa Bene Ti ho finalmente chiarito la situazione Chiara come il giorno Finalmente abbiamo un bersaglio Comincia a contare, Morgan Come ultime parole non sono molto originali Ma buona fortuna, signori Chris Giusto La prima cosa è uscire da qui Qui è il trick Kirk al vostro servizio Sono in stand-by sulla Queen Zenobia Appuntamento sul Ponte di Brù Sbregatevi Non c'è molto tempo Ripeto Qui è il trick Gilles Gilles Il Ponte di Brù È di qua Le esplosioni sono iniziate Non c'è più tempo Io salto di sotto Non c'è più tempo Grazie a tutti. Jill, è di qua! Chris! Sto bene, ma non riesco a passare. Cercherò di fare il giro e risalire da te. Parker! Ciao, Jill. Ce la fai ad alzarti? Grazie, Jill. Jessica mi ha sparato. Lavoro per Morgan. Jessica. Di qua non possiamo passare. Merda! Non possiamo spegnerlo o qualcosa! Dammi, signore. Non ti montare la testa! Parker! Chris, ti spiegherò dopo. Ora dammi una mano. Ricevuto. vado avanti Chris, forse non Sì, lo so, ma non abbandoniamo nessuno Ah, vi sto rallentando Maledizione Parker Oh, diavolo Non è la mia serata Oh, diavolo Buona fortuna, Jill È stato bello Cosa? Ci vediamo, amici Parker Jill, dobbiamo andare Sì, Chris Lo so Avvio contro la novella per la sequenza di autoistruzioni No, non c'è più tempo 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 Sì. 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 Grazie a tutti. Presto, ci siamo quasi! Sbrigatevi, ragazzi! Sbrigatevi! 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 Sbrigatevi!